Ciao Marcello, l'unica cosa che possiamo dire non commentiamo, perché cosa vogliamo commentare? In vari ambiti, la partita è commentabile perché è una partita stata molto improntata sull'attenzione difensiva e poco altro, di azioni così ne ho visti ben poche, sì ho visto forse Di Bala che si è un po' ripreso, però niente che dire, comunque non sono abbastanza fiducioso della squadra, perché? Perché io vi ricordo sempre anche i più pessimistici che quando noi l'anno scorso, che è stata detta la grandissima, la grandissima, fenomenale, immensa stagione della Juve, noi l'andata l'abbiamo fatta molto molto male e abbiamo perso a Firenze, è lì che è stata la svolta che il nostro enorme, gigantesco Massimo Massimiliano Allegri, colui che inventò la nuova formula, il 4-2-4, è da lì che partì tutto, quindi dobbiamo avere molta pazienza, siamo nelle mani di un grande allenatore, i ragazzi devono credere a lui e devono mangiare l'erba. Perché abbiamo iniziato il no comment? Sia per la partita e per un'altra questione. E l'altra questione è questa, perché no comment? Perché no comment? Ecco, l'ho tirato via per così almeno il discorso un po' più vicino magari col tuo aiuto Marcello riusciamo a risolverlo. Non si può vicino, non si può noi tifosi juventini abbasarci, essere contenti alla fine della partita, uno gira, vuole vedere i commenti e che ci prendono, lui non si rendono neanche conto che ci prendono per il sedere quando contento di... e si mangia il biscotto col sorriso in bocca. Ma non va bene, non va bene, dai ragazzi, non è essere juventini, dai, non è essere juventini, veramente, mi fa tristire, veramente, sono triste con questa storia, triste, triste e anche un po' arrabbiato, perché ci prendono per il naso, ci prendono per il naso. Ti ringrazio Marcello per il tuo tempo che dedichi sempre a noi e che dire, fino alla fine Forza Juventus!